1.245 nuovi casi su 8.825 tamponi processati. Entrambi i dati emersi dal bollettino epidemiologico pugliese del 10 novembre rappresentano il record giornaliero da inizio pandemia. Il totale dei positivi registrati nella nostra regione sono ora 27.676 di cui 18.886 attualmente positivi, 7.921 guariti e 869 deceduti. 25 di cui 17 provenienti dal Foggiano, 3 dal Tarantino, 3 dal Barese e 2 residenti fuori regione sono i decessi odierni, 147 i nuovi guariti. Salgono da 1.087 a 1.160 i ricoverati, da 16.726 a 17.726 i quarantenati. Larga parte del dato regionale odierno è costituita da casi provenienti dal Barese. I 579 contagi odierni, secondo quanto spiegato dall'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, sono il frutto del recupero di informazioni da parte del laboratorio del Policlinico di Bari riferite a prelievi analizzati negli ultimi cinque giorni. Totale della provincia di Bari ora di 10.961. Numeri molto alti anche nel Foggiano, dove i casi odierni sono 318 ed il totale 6.706. 2810 invece il dato complessivo del Tarantino, zona nella quale sono 131 i contagi delle ultime 24 ore. 79 sono i positivi del 10 novembre nel Brindisino, 1984 è il totale della zona messappica. Cala, dopo il record giornaliero di ieri, il dato della BAT, che passa dai 167 casi del 9 novembre ai 62 odierni. Totale della sesta provincia è di 3.001 pazienti registrati da inizio pandemia. A completare il dato odierno 17 residenti fuori regione e 59 casi dell'eccese, che portano a 2012 il dato complessivo della zona salentina. 614.181 è infine il totale dei tamponi processati in Puglia.